il 25esimo ovviamente ed è stata calcolata sui dipinti e sui presevi per cui vado a dire che il terzo posto per quanto riguarda i dipinti è stato accreditato alla signora Gallo Giuseppe Maria con numero Vodi 21 il secondo posto con numero 23 voti a Greco Mino al primo posto è toccato alla signora Gerlone Anna Maria che possiamo già consegnare adesso i premi io pregherei l'assessore per il terzo posto la signora Gallo Maria, Gallo Giuseppe Maria grazie 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 quindi al secondo posto Greco Mino grazie 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 ma non ho convito io allora io ti ho detto la signora Gerlone Maria Anna Maria con il numero 1 con il primo posto insomma con 38 voti complimenti grazie 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 Il caffio gira. Il caffio gira. Grazie. 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 della presenza dell'assessore Adele Castellano